ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach oggi andiamo a vedere come si esegue l'alzata laterale a bandiera un classico esercizio che proviene dal mondo dell'allenamento con i sovraccarichi che ha lo scopo di andare a colpire il vostro deltoide in particolar modo la sezione laterale di questo di questo muscolo quindi si esegue con un manubrio con un manubrio noi dobbiamo andare a sfruttare l'appoggio di un di una struttura rigida e quindi andiamo a metterci in appoggio piedi in appoggio alla struttura e da questa posizione vado ad eseguire il movimento laterale di alzata in questo modo vi assicuro che questo è un esercizio veramente top per andare a colpire i vostri deltoide generalmente cosa si può dire di questo esercizio importante come viene eseguito quindi è un esercizio con cui possiamo andare ad eseguire 8 10 ripetizioni esercizio complementare da mettere magari dopo qualche fondamentale per le spalle generalmente viene svolto con una fase concentrica più veloce è una concentrica un'eccentrica più lenta quindi io posso salire rapidamente tengo una frazione di secondo e poi posso scendere in 3 4 secondi ok su mille 1 mille 2 mille 3 mille 4 su mille 1 mille 2 mille 3 mille 4 grande esercizio sentirete il convolgimento del deltoide laterale alla grande come detto 8 10 ripetizioni vanno bene carico intorno al 60 per cento ok tempo sotto tensione questo che vi ho indicato 3 4 secondi la negativa veloce la concentrica posso mantenere una frazione di secondo la parte statica 3 4 serie a seguire lo potete mettere a seguire gli esercizi fondamentali e può essere un ottimo esercizio per andare a variare un po il lavoro che fate sulle spalle esercizio ovviamente mono arto quindi se avete un arto un po più debole potreste magari su quell'arto fare anche una serie in più ottimo per andare a riequilibrare un po la forza di spalla destra e spalla sinistra dateci dentro e come sempre grazie per l'attenzione e continuate a seguirmi e se volete essere seguiti dal coach trovate le indicazioni qua sotto e potete accedere i percorsi d'allenamento in video ai miei alle mie famose programmazioni annuali o perché no essere seguiti tramite un percorso di consulenza personalizzata ci si vede alla prossima ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto conti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito